che simpatico che sei Kevin eh che simpatico che simpatico che simpatico che simpatico che che simpatico che simpatico che sei? ciao 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 Kevin, ciao 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 Chau 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 Che caccaving? Che caccaving? 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 Chau 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 ch Cosa stai笑to? Cosa è così felice? C'è un po' di più? Oh, c'è! Oh, c'è! Devevo chiamare! Oh, c'è! Oh, c'è! Non so se si è venuto! Non so se si è venuto! Papa, ciao! No, 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 no. Gaby, ok? No, 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 no. Gaby, ok. Ok, ok. Ok, ok. He's too busy, I know he is watching a show, too. It's a little bit. Ok, ok? Ok, ok, ok? Ok, ok, ok. Basta aiutè cattaro Bastaà si 전�BUG Mi accolament opica Come breathing Si battle No Si Come sm rings Mamma sche module Come be careful All it 餅 within Ti sm aconteceu il merito bravo Canteries bravo ui 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 uilesi ui ui il首 Locker Cerchio Ui quanto voglioMartin Kevin, guarda il vostro sottotitolo. Oh, 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 oh. Oh, oh, Kevin. Il vostro sottotitolo. Oh, oh, oh. Ciao, 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 Kevin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 快点把我奶嘴买过来,我要吃新奶嘴了. 我那些奶嘴都吃了好几个月了,你说我不要了. 吃了几个月了? 吃了4个月了. 爸爸,爸爸. 5个月了. 噢,噢,噢,噢,噢,噢,噢,噢,噢,噢,噢,噢. 放好,放好. 放到这边来了. 放到这边来了. 噢,Cavin. 刚才你放到这里来了呢? 好,Cavin. 刚才你放到这里来了呢? 好. Cavin. 这样穿起来,他好像怕一点了. Cavin,你要干嘛呢? 你去放放吗? 要不要放放? 好,放起来. 好. 放了,放了. Cavin, bravo. Cavin, bravo. Cavin, bravo. Cavin. Cavin. 今天是几月几号啊? 11月5号. 自己会放了. 会发生啊. 厉害厉害。 吵,Cavin. 吵,吵,吵,吵,吵,吵,吵。 吵,吵,吵,吵,吵. 你怎么说,Cavin? 他闹着冷藏中,那种离电池颜色 好呢,inkerikenx2 吵,吵,吵,吵,吵,吵,吵. 吵,吵,吵,吵,吵,吵,吵. 吵,吵,吵,吵。 È qui, l'improv. Io sono molto lei. Ciao ciao. Ciao 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 ciao. Ciao ciao ciao. Senta il cao di questo? Il cao di questo? Ciao! Ciao. Ciao 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 ciao. Ciao 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 Gabin Ciao ciao Gabin Tu sei un bambinone contento eh Gabin Ciao 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 Tu sei un bambinone contento Gabin Tu sei sempre contento eh Ciao 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 Gabin Tu sei un bambinone contento Ciao Ciao Gabin Ciao 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 Dio sei un bambinone contento Oggi dove vai Gabin Oggi c'èmbe suore Vandare parco chocaron pao Vai parco a dormire un pochino Gabin Nó la carruzina Nome kiazzina Nome kiazzina Nome kiazzina Nome kiazzina Nome kiazzina Nome kiazzina no come 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 uuuu 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 non ho mai la che c'è il peso e che mi chiede? ok ok che mi? 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 ah che si che mi? che si che mi? che si beh che si C'è un po' di pazzesco Oh eh? effetto Kevin, non c'è il tempo di riparo? non c'è che è in questo tempo io ho fatto un papà di farà faccio un cammin faccio un cammin Sì, non lo soggio. Ah, è troppo lì Kevin? Ora non si può fare Ciao Kevin Ciao 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 Kevin Ciao Ciao Kevin Ciao 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 Guarda 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 Che bello! No, non mi piace, non mi piace. becchio Kevin Kevin, hai detto che io non mi sono ancora inizia, tu non mi sono inizia Sì, sentite mica, io sentite, c'è qua C'è papà, c'è papà, c'è papà C'è papà, c'è papà C'è papà C'è, c'è pot Kevin, tu non phae? Tu ancora perso? C'è cap? C'è papà, c'è papà C'è cap? C'è cap? C'è cap? Non c'è nessuno ah uh che simpatico carina coi che si cioè cacio carina cacio carina cacio 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 il troppo Ciao, ciao, ciao Buongiorno 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 Guarda che io sono inizia A presto Fuori Buongiorno 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 La periente Placare Buongiorno 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 Buongiorne Sì . . . 한다 Ho Tag Mission la into the Cosa è la Cami? Cami, che bello che sei a un comissari Ciao Cami, ciao 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 Cami Ciao 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 Cami, ciao ciao 你奶奶不是在這裡嗎,你哭什麼呀 這個是誰,誰在偷拍我寶貝 去去去去 去去去去 E sono 幾少人 io 2 2 2 U 4 4 4 5 5 9 3 9 3 9 9 come la scossa come si so narrow com a picardine! in cui lui può entrare la scossa non spaghetti ilceno è iniziato è difficile ascoltare e nondlef Practice non posso farlo per me Kevin guarda non mi fanno farlo ogni cliente non mi fanno farlo ogni cliente non mi fanno farlo Kevin il tuo cuore è il tuo cuore in l'anno anche si può fare Kevin adesso non c'è il cuore sono iniziative, sono iniziative. è molto bene, è molto bene. Ci sono già già molto bene, è già tutto iniziato. Non c'è la sua stessa, non c'è la sua stessa. C'è un po' di nuovo. Alla, a tutti. Buon appetito. . . . . . . . . Cavin è stato fatto. Ma l'ho. Un... È il momento in cui è in questo tipo. Cavin, in quanto riguarda? Iniziamo a fare il traccio. Iniziamo a fare il traccio. Iniziamo a fare il traccio. come faccio? tappo in questo video? no c'erano non ho mai visto il telefono non ho visto il telefono io non ho visto il telefono il telefono la mia madre non ho visto il telefono non ho visto il telefono non ho visto il telefono non l'abbiamo a 12 anni ci sono trovate le video come qua i delle caratteristiche come tasto dai facciamo così per Leonie franzasera come l'iperto? come l'iperto? non so que l'iperto diii? come l'iperto? come l'iperto? dove orai ne cessetti? come l'iperto sim Hornami? come l'iperto? come l'iperto? eh? risedosted ahahahhah ah? 你在干嘛呢? ah? ahahahhah Kevin? oh ahahahhah 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 ahahahah ahahahah Kevin, il mio uh, si imbioike si Associi ahahahah a study Sì Poi prendere tutti i video Cosa c'è? Gravin, a teeti dirige la sua voce Cosa cosa ti lascia? La mia voce non c'è la voce La mia voce non c'è la voce La mia voce è la voce Mamma mamma, non c'è questo, ma la mattina ragazzi. Non c'è un uomo molto. La mattina a tutti i noti? Non c'è una verità. Non c'è una verità. Gravino, chanel. Non c'è una verità. Non c'è una verità. No. No Non c'erano, non c'erano, non c'erano. Che viso grande che hai stamattina, ma che sei? Sono Kevin, 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 Kevin. Guarda che bell'aeroplanino che c'è qui, che bell'aeroplanino, che bell'aeroplanino. Che è incredibile è che un'forza? Qui è lo Isto? Uh, che меньше spazio? Un'forza? Eww, 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 che bell'ai cecchio? Kevin, tu hai ch 밖에 uno? Viens in al pescara, eh? Eh, che cosa c'è qui fai? E' piè, anche un'e fai zio? Oh, che buona i tuoi? I cani, domani. Sì, siamo iniziati. Sì, anche se si è iniziato. Sì, non ho un po' di più. Sì, oggi è il星期五. Sì, è stato un po' di più. Sì, non ho un po' di più. Sì, non ho un po' di più. Sì, non ho un po' di più. È un po' di più. Tornate iniziamo tutto. Tornate iniziamo. Cavin, Cavin e bè. Cavin, cotto. Cavin, cotto. Cavin, cotto. 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 Cavin, bè. Inizio. Cotto. Cotto. Lei la? Lei la? Lei la papà? Come va? Caby, papà! Non, 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 chò chò va? Cà chò 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 chò! Riccardo oh Ricicardo Perkurna inside me come fai fino a Rob a fare ci sono No to chill per non andare al lato ha 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 e quando i amiamo lato del decreto i amici sono al lato e quando i amici e quando i amici mi ha detto prima se non o no e io 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 e le dame Cari, come va? come stai bene Cari? Sei contento? Dove sei? Chi è questa mano? Oh c'è la mamma Come sei contento, Kevin Come sei contento? Un bacino Ah, un bacino Kevin Kevin Hehehe 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 Oh What? He's looking at you sitting there What's the thing? Kevin Kevin Hehehe 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 And I want you to hold me Hehehe 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 You're right Hehehe And he's not happy And he's not happy no non però edo che ti rende moccu moccu la ho ne conto è mai fine non puoi iniziare la nuova come in poppy Kevin? Che c'è oggi eh? Hai pianto? Ha fatto birichino Kevin? Kevin! Ciocio! Kevin! Stai guardando la mamma? Eh? Kevin? Uh Kevin! Eh mangia! Dai apri la boccuccia! Uh che bravo! Che bravo! È buono eh? È buono eh? Che buono! Eh? Che buono Kevin eh? Mm buono! Buono! Che bravo Kevin eh? Che buono! La papa è veramente buona eh? Poi anche la mamma eh? Che brava! Come sei contento eh? Mm... Sei contento eh? Però Kevin? Che bimbo contento! Taffi bu taffi? Kevin si...很愛好看的 eh? V�로 la gente sceata di zombie la mamma si su Podcast. Mi Pangani娘 lo rio Loserecho! Cue le면�ano Dat 대firocaccia! fills. Si sceata si... mediefti può datare la mamma 수도 sympathizzante的 eh? Vom fortuna? in ormere, è buono. Vosok這一 분들? Of course? Zavzi? Taffi? Nas Flemaro L 1990? What are you f cambiar dianka di video ok? Cuarta d'o. Cà t Quanta appetit? Quanta pancia di video le hexano citizenship? Sono dove sadece attraverso? Vediamo? Oh, sì. Che è un pozzo. Non posso fare. Cosa cosa этому ha fatto? Che c !! Ma che c'è mi? Che c'è mi? Che c'è? Che c'è? No. Eh? Non. Non. Ma che c'è? C'è una cosa? Tu non è ancora mai? C'è un pi versi c'è un pi.. Mi chè si? Ah! è un po' molto cercano. Cervi, senti un po' di più, la mia chiudica al punto, ora la mia chiamata. Ah! è tutto questo quello che non ti prendo. Ètooissante. Cervi, non pensi mai. Cervi, non pensi che uscire. stai partire la mia vita. Questo è il momento che vi aiutato. Cervi, ti devi farme parte! Il testo di tutto il loco. Oh, che bel bambinone, che bel bambinone. Tieni, tieni. Cosa stai facendo Kevin? Guarda. Ciao, ciao. Ciao Kevin. Ciao Kevin. E funziona sempre così, ok? Eh? Sempre lì va finito, ok? Cos'è quello lì? Così, eh? Oh, guarda che occhioni che hai, guarda che occhioni. Il quale è questo modo di narrare la storia, quindi, per chi vende alle aziende. Kevin, ti piace il cucciolo? Buono il cucciolo, eh? Buono. Questo è buono, eh? Oh, ho, c'è. Oh, ho, c'è. vaak lo c'è. La suaoccia per Europa o sovra dicono. Poi the whole hanno sovra, un tantissimo smirso, che la cantanko nonjug possibile. Ok, qu'è lui già usano? Face la macchuta in alle quelle olruktano? A pelle che prendrava né, qua tout far distance. C selfie vieneших, appoggio. A YA di arrucate! C uniforme fare C penetri in altri blan ni del bambino. C'è un po' di più. oggi è sabato sabato che giorno 27 28 che giorno è oggi 27 cavi oggi è sabato 27 che carino che bello vestitino cos'è questo qua la tua bue è fatto a te che bravo che sei che intelligente ciao 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 chi è quello chi è cavi chi è che ma questa luce si muove che bambino di papà bambino di papà kevin dai bacino papà kevin dai bacione papà dai bacino dai bacino che ti da bacino tu dai bacino dai bacino dai bacino papà dai bacino papà Non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace Il corpo è冰 Cosa? Cosa? Sì. Grazie a tutti. Grazie.